È successo che hanno promulgato un decreto il 2 marzo, un decreto che si occupa della messa a terra del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, all'articolo 43 di questo decreto c'era, o meglio c'è ancora perché è ancora lì, devono eventualmente cambiarlo, c'è un articolo, l'articolo 43 c'è questo articolo che dice che l'infrastruttura digitale che serviva a produrre il Green Pass e a monitorare i dati dei cittadini italiani viene in qualche maniera istituzionalizzata, cosa vuol dire? Vuol dire che viene rinnovata, serviva una legge per rinnovarla, viene fatta questa legge e il Green Pass diventa eterno, mettiamola così, o comunque si allunga nel tempo perché questa infrastruttura viene finanziata per il 2024 con 3 milioni e 8, per il 2025 con 1 milione e 8 e da lì 1 milione e 8 all'anno per gli anni successivi, quindi diventa sostanzialmente, si struttura il Green Pass in questa maniera, diventa qualcosa di fisso e presente, il che fa abbastanza inquietare, perché uno diceva come il Green Pass, siamo ancora lì con questa roba, c'è qualcuno che dice che questa cosa serve per spostarsi, perché è un regolamento europeo, un regolamento meglio dell'OMS e questo si chiama Green Pass internazionale, serve per spostarsi da un paese all'altro senza particolari difficoltà con una specie di passaporto sanitario che consente di andare altrove avendo già tutti i dati sulle vaccinazioni e quant'altro. Ora, io sono rimasto abbastanza allibito quando ho visto questa cosa, ne ho scritto, ho chiamato un po' di persone politici, insomma tecnici chiedendo spiegazioni, abbiamo scoperto che questa infrastruttura del Green Pass veniva finanziata in una maniera indegna, cioè prendendo soldi dal fondo per i danneggiati da vaccino, è vero che è un fondo che non ha una dotazione fissa, ha una dotazione variabile, quindi si poteva anche aumentare il fondo e poi prendere da lì soldi, tra l'altro un fondo viene utilizzato poco, visto che purtroppo i danneggiati da vaccino fanno molta fatica a vedersi riconosciuti i loro diritti e a ottenere risarcimenti. Quindi il punto è, volevano fare una struttura oppressiva prendendo i soldi agli oppressi, questo è lo scritto. Ora, sul tema è intervenuto il Ministro Schillaci, è intervenuto il Sottosegretario Gemmato, so per certo, questo mi dicono le mie fonti, che anche Giorgia Meloni si è abbastanza fatta girare le scatole per questo tema, perché sulla questione sanitaria, almeno sul Green Pass e le restrizioni, questo governo è intenzionato a tenere la rotta iniziale, anche perché non è che può, farebbe una figura pessima, diciamo così, cambierebbe proprio completamente linea e perderebbe, credo, un bel po' di voti e quindi hanno deciso, hanno detto no, non aderiamo al Green Pass internazionale. Ora, qui ci sono due elementi, il primo è che io voglio vedere come cambiano questo articolo, incasso la promessa, voglio crederci all'idea che cambino questo articolo, mi hanno assicurato e l'ho scritto anche oggi che sarà cambiata anche la fonte di finanziamento di questa infrastruttura, non più dal Fondo per i Danneggiati, ma da fondi del Ministero, però mi rimane un sospetto, anzi due sospetti. Il primo sospetto è, ma va bene, tolgono riferimenti al Covid, tolgono riferimenti al Green Pass, però questa struttura rimane lì, che se ne fanno? Perché il piano dell'OMS per il Green Pass internazionale resta operativo, noi non aderiamo a quello, ma l'infrastruttura digitale resta, che ce ne facciamo? La utilizziamo per il passaporto digitale europeo? Io comunque credo che qualsiasi utilizzo possa avere, non sarà un buon utilizzo, sarà comunque una questione di monitoraggio delle persone, di sorveglianza e l'idea non mi fa proprio impazzire, anzi, io sinceramente non so voi, spiare me è una cosa di una noia mortale, spiare Bergovic è molto più divertente, tanto è che io faccio dell'azione qui in pubblico, se dovete spiare qualcuno dei due, spiate lui, che è più interessante, non me, che io sono contro il divertimento e la noia, però non mi piace comunque l'idea che qualcuno mi spi, se io devo andare all'estero, ma perché ho bisogno del passaporto vaccinale con i miei dati, sulle mie terapie, le mie vaccinazioni, ma perché? Tra l'altro libertà di circolazione in Europa è un corno, libertà di circolazione, e poi mi chiedo, ma se il governo è contrario, mi risulta che lo sia, al Green Pass, ma chi è che continua a mettere dentro queste robe nei decreti? Chi è che continua a scrivere queste cose qua? Evidentemente ci sono dei tecnici che scrivono, io ho trovato un documento interno, diciamo così, non diffuso al pubblico, del 2023, in cui alcuni dirigenti del Ministero della Salute scrivono al Ministro e gli dicono, Ministro, bisogna assolutamente, visto che l'OMS ci sollecita a fare questa cosa, bisogna fare una legge per istituire il Green Pass internazionale, che è una cosa molto utile, molto buona e porta a frutto l'esperienza del Covid. Io sono rimasto allibito, cioè nel 2023 i dirigenti del Ministero, sapendo che era cambiato un governo, sapendo che quello doveva essere l'orientamento, vedendo quello che hanno fatto, niente, se ne fregavano, andavano dritti. Allora di questo e di un'altra cosa che riguarda l'Ordine dei Medici, voglio parlare con il Dottor Daniele Giovanardi, che torna a trovarci. Buongiorno, Dottore. Sì, buongiorno, Francesco. Buongiorno. E insomma, sentite un po' questa ricostruzione che le ho dato, cioè io non riesco a capire sinceramente dentro i ministeri che diamine fanno, perché io vedere due dirigenti che firmano un documento in cui si sollecita il Ministro, il Ministro capisco che, insomma, a me questo Ministro mi sembra praticamente un cuor di leone, anzi, detto questo, seppure i tecnici dentro poi continuano a mandargli degli input che arrivano dalle istituzioni internazionali e a recepirli così, mi dà la sensazione che ci sia una macchina che va avanti per i fatti suoi, Dottore. Io ragiono così, noi siamo famosi per il gioco delle tre carte in Italia, io guardo non le narrazioni, infatti noi abbiamo firmato l'anno scorso delle convenzioni internazionali sotto la guida di Schillaci che ci obbligano, per quello che riguarda il Green Pass, ad adattarci a quello che l'Europa farà. Nello stesso tempo lo stesso Schillaci adesso afferma esattamente il contrario di quello che si è impegnato di fare un anno fa, ma questo è un problema tutto nostro italiano, perché faccio notare che in questo momento l'Italia è praticamente entrata in guerra, Mar Rosso, sapete me, quando per Costituzione ripudiamo la guerra e all'altro modo abbiamo offeso la dignità delle persone con gli obblighi vaccinali, violando l'articolo 32 della dignità della persona. Quindi tutte queste cose messe in fila, è chiaro che creano preoccupazione, perché le rassicurazioni lasciano il tempo che trovano, perché i fatti vanno in maniera differente e infatti tutto il governo adesso è schierato con la von der lion, perché hanno già detto che voteranno, se ci sarà la possibilità, per la von der lion, perché tutto quello che ha fatto per la campagna vaccinale e per le armi e così via, va benissimo a questo governo. Questi sono i fatti. Ci scrivono degli ascoltatori, uno dice dopo la notizia sul Green Pass abbiamo la conferma che la Meloni e la Longa Manus di Draghi e poi un altro dice ma l'Europa non serviva per spostare merci e persone liberamente, la soluzione sarebbe il Green Pass eterno e ancora, ma chi ha fatto questo decreto? Mango Berlino, giocano il poliziotto buono e quello cattivo? Il punto non è tanto come viene finanziato, ma il fatto che ci sia. Allora io qui secondo me dobbiamo fare due specifiche, la prima è, anche se io sinceramente credo che magari non tutti, ma una parte di quelli che adesso stanno degli incaricati politici diciamo, sottosegretari, c'è Gemmato e uno che pronti via si è beccato nel Novax, in televisione, poi ha lavorato sotto traccia, si è esposto meno, anche perché sennò tutte le volte che parlava lo linciavano, però è gente che qualcosina ha fatto per fermare le restrizioni, io credo che anche solo per calcolo elettorale, non perché siano più bravi degli altri, solo per calcolo elettorale non siano favorevoli a maggiori restrizioni, io credo che ci siano due ordini di problemi qui, non è monolitica la gestione di un ministero e soprattutto non è monolitico il governo su tutte queste cose qua, evidentemente c'è, secondo me è un ministro che lascia andare, non controlla e sta dentro i binari ancora dell'ideologia sanitaria, infatti ho una scelta quella di Schillaci che mi lascia molto perplesso, penso che dentro i ministeri ci sia una, non voglio dire un deep state, però una serie di tecnici che se ne fregano abbastanza delle indicazioni politiche vanno avanti sulla base di quello che viene detto dall'alto, anche solo per quieto vivere e poi manca il controllo politico alla fine della fiera e quindi cosa succede? Succede che escono fuori queste robe qui, nessuno le ferma, nessuno se ne accorge che è una cosa gravissima tra l'altro e poi dopo si tenta di correre ai pari, il problema che sfugge secondo me a molti il quadro generale, dottore, c'è qui l'idea che ci sia… Allora io concordo al mille per mille su questa posizione, adesso però la parola passa alla gente, passa al popolo, passa ai medici per esempio, che sono una grande forza silente e accennava prima appunto a questa iniziativa che vorrei esporre brevemente perché è importantissimo, che è successo? Che la medicina si legge sul codice deontologico e sulla libertà di scelta dei medici, il medico deve scegliere la cura più efficace per il suo paziente senza condizionamenti economici o politici, ha il dovere di informazione sui rischi e benefici di un farmaco, gli è proibito per il codice deontologico di sommestrare farmaci non sperimentati o personalmente pericolosi, ha l'obbligo il medico di confrontarsi con gli altri colleghi alla pari, tutti questi principi che sono fondamentali alla pressione sono stati violati in modo prepotente da Nelli, della Fondanceo e da Presidenti degli Ordini, su ordine della politica, mentre hanno il dovere di ribellarsi. Allora cosa abbiamo fatto? Dei valentissimi colleghi hanno messo in fila tutte queste violazioni e ne chiedono ragione come medici, ne chiederanno ragione agli ordini, ovviamente questa cosa qua deve essere letta e diffusa perché? Perché anche le forze politiche dovranno schierarsi, noi per esempio come democrazia sovrana e popolare siamo intervenuti dicendo che il codice deontologico deve essere rispettato e nessuna politica, nessun governo può metterci le mani perché è roba dei medici e deve essere obbligatoria non piegarsi e di chiedere il governo. E poi Francesco finisco, sabato c'è una bella riunione a Bassano, ci sarai tu, Berlato per la politica, Ladonato, Duranti, Giordano e tantissimi medici. Allora io in quell'occasione, visto che i medici hanno scritto tutte queste cose di violazione, chiederò quali altre forze politiche sono disponibili a sostenere questo documento dei medici a favore dei medici, della libertà del medico e a favore della gente e dei poveri pazienti.